Salve cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Kuching, una rinomata località del Borneo. Ecco, come potete vedere sono nella stazione bus, da qui partono gli autobus diretti in varie località, bus che arrivano e partono diretti sia nel Brunei che diretti anche verso l'Indonesia. Come potete vedere un po' la caratteristica di questi autobus che spesso presentano la dicitura VIP, è un po' una scritta che si rincontra un po' da tutte le parti, questi qui mettono la scritta VIP dappertutto perché adesso ci sono i nuovi malesiani, ovvero una classe imborgesita, arricchita, partita dal nulla, i famosi uomini della foresta che si sono trovati con i soldi in mano grazie al petrolio, grazie alla deforestazione, allora va di moda mettere VIP, il cosiddetto specchietto per le lodole, per tutta una serie di categorie che in modo eufemistico oserei definire come mezzi rincoglioniti. Ecco qua i famosissimi VIP bus che di VIP non hanno assolutamente nulla, ma la parola VIP questi qui li attrae un po' una caratteristica dei malesiani. Eccoci qua il VIP bus. Ok ragazzi ci sentiamo alla prossima.